Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati sopra ogni avversione global. Ci troviamo nel Lost Chapter di Ursula per vedere come ho affrontato e superato il suo stage scirio. Il team è composto da Macchina, Kamranaut e Kane, con la summon di Pandemon e nessun support. Stage scirio semplicissimo, completato in 15 turni, senza subire il KO, senza subire il danno HP e con uno score pari ad 1.800.000 punti. In questo stage basta far tanti danni, proprio danni su danni, per portarselo a casa in scioltezza. E anche in questo evento mega ritardone di un giorno sul contenuto. Ma vi informo che in serata uscirà anche il secondo stage delle Dare to Defy. Dunque restate sintonizzati, mi raccomando, like e condivisioni per supportare il canale. E detto ciò, vi auguro una buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.